Adesso però solidifica la tua posizione e ti la trovarà qua. Adesso questa reazione arriverà su lui. Allora, io vado a 1, lui solidifica, io da qua, lui torna a pelle, schiavola. Nel lavoro a cochi di padre, il lavoro più semplice del mondo, io porto tutto a piede, il piede porta tutto alle braccia e adesso lui porta questo al piede, il piede alle braccia, di nuovo io porto questo, come se rimbalzarsi, lo riporto di nuovo su e lo riporto di nuovo giù. Questo scambio di base di cui ciò serve a lavorare questa espansione sul piede e mani. Non ha niente a che vedere come deviare il formello. Però provate i due.